Costruire un quartiere della cultura, una piccola Montmartre, all'interno della quale il MAN possa coordinare lavori di giovani, esposizioni di mostre, spettacoli e anche presentazioni di libri o di altre opere. Nell'intento che abbiamo con il Comune, che ringrazio sentitamente, c'è quello veramente di considerare il MAN e la Galleria un tutt'uno, una spina dorsale che lega i principali istituti culturali del quartiere. Il Comune di Napoli mette a disposizione del Museo archeologico nazionale alcuni locali della Galleria Principe di Napoli per promuovere laboratori urbani di arte in rete con l'Accademia, di artigianato con particolare riferimento all'arte del presepio, di lettura e didattica a beneficio di tutta la città, oltre ad atelier per artisti contemporanei con la possibilità di esporre le proprie opere, laboratori musicali in collaborazione con il Conservatorio, Infopoint e centro di documentazione. E in collaborazione con l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sarà realizzato anche il Museo della Resistenza. Il Comune concede al Museo due unità immobiliari all'interno della Galleria ed una sotto al porticato della piazza, con un accordo triennale firmato oggi che comprende il recupero, l'adeguamento e la valorizzazione culturale del complesso monumentale della Galleria. Un progetto che punta ad un quartiere e a un distretto culturale, alla valorizzazione del monumento, ma soprattutto alla valorizzazione di un'area, quella del museo. E lo facciamo a poche ore dalla riapertura dei musei e quindi un segnale anche concreto. Lo facciamo oggi, ma lo facciamo anche con una visione lontana. Infatti vogliamo attraverso il MAN far partire laboratori, occasioni concrete per gli studenti delle Accademie di Belle Arti, per l'Università della zona, opportunità di lavoro. Quindi una progettualità che punta anche alla rinascita della nostra città, nel Covid e dopo il Covid, puntando e investendo in modo quindi tanto concreto nella cultura, nel turismo e soprattutto nella profonda ricchezza dei luoghi del patrimonio della città di Napoli come la Galleria Principe.